Il federale inaugura a Torre Spaccata la nuova casa dei bambini, che si intitola al caduto in Africa orientale Manno Manni, realizzata dall'ente Le scuole per i contadini, che da decenni esplica nell'agro romano la sua benefica opera di educazione fra i figli dei rurali. Grazie a tutti! Grazie a tutti!